è questo qua il camion che ti dicevo che Dani secondo me ma non secondo me il sogno dice andiamo via andiamo via con questo ma anche solo di estetica come colorato ti lascia perdere se è bello brutto è bellissimo a me fa impazzire e si porta anche rimorchio dietro? ah beh certo sono belli hai visto la dimensione dell'amorizzatore? guarda solo i fogli delle palestre guarda l'amorizzatore da vicino guarda soli andiamo a sudare il mini generatore questo non ce l'hai caro Robby Robby, dietro al Suzuki, il prossimo anno io mi aspetto questo cosa costarà? la partecipazione e beh, rispetto all'altra mi imbecino com'è? tutto bene ti seguo sempre con Tiziano è un po' che non vengo però noi in Italia non ci siamo mai conosciuti no, però è l'opasione giusta esatto, è una delle più belle mi raccomando, eh, Italia grazie mille ciao ciao se si toglie il casco lo vedi è che gli hanno sbagliato le grazie una parte è più l'altra parte è piena second second merci via vai veloce come il sole ti è là, ti è là, ti è là d'accordo ce l'ha finito attendo che ora io prendo il chef ahahah sono qui eccoci qui sì è l'unico l'unico si qual'è tempo per la un'ora per una una un'ora 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 una un'ora 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 non non si l'ora del l'ora lentamente ok un'ora un'ora C'est 42, c'est bon? C'est bon. Grazie a tutti.